La Toscana, sempre più terra del ciclismo, da 19 al 23 aprile ospiterà l'appuntamento italiano della Coppa delle Nazioni. La gara, presentata in Regione dall'assessore Riccardo Nencini e dai rappresentanti dell'associazione organizzatrice Girobio, è riservata alle squadre nazionali Under 23, selezionate in base alla classifica mondiale di categoria. Cinque le tappe che dopo la partenza da Grosseto toccheranno Pisa, Luca, Rezzo e Siena con arrivo a Gaiole e Inchianti. È una bella apertura di stagione internazionale, qui la stagione si è già aperta, ma questo è un evento che ha caratteristiche superiori ai confini di questa meravigliosa Italia. E fra l'altro diventa il primo evento di collegamento ai mondiali del settembre 2013, quindi iniziamo con la Coppa delle Nazioni per poi incamminarci su una strada mondiale da tutti i punti di vista. Parteciperanno alla corsa le migliori nazionali mondiali, una rappresentativa UCI e nazioni svantaggiate come Iran, Eritrea e Romania. Un banco di prova per il direttore generale di Girobio Giancarlo Brocci in vista dei mondiali. Fra l'altro Giancarlo avrà una responsabilità importante dentro il pacchetto di mischia dei campionati del mondo ed è un rodaggio proprio in vista di quell'occasione.